A primo ucciso la moglie, 69enne da anni gravemente malata di Alzheimer, è poi tentato il suicidio. I fatti sono avvenuti in una zona centrale di Matera dove i carabinieri della locale compagnia nella serata di giovedì 24 ottobre hanno tratto in arresto un 77enne del posto con l'accusa di omicidio. L'anziano, dopo aver soffocato la coniuge, avrebbe tentato di suicidarsi recidendosi le vene di entrambe le braccia con un coltello da cucina. Soccorso dei familiari e trasportato dal 118 al pronto soccorso dell'ospedale Madonna delle Grazie, dopo essere stato medicato e stabilizzato, come riportato in un comunicato dei carabinieri, ha ammesso le proprie responsabilità al pubblico ministero della procura della Repubblica di Matera che ha coordinato le indagini e che si è recato prima sul luogo dell'omicidio e successivamente in ospedale per interrogare l'indagato. L'uomo attualmente piantonato in ospedale non è in pericolo di vita. Gli accertamenti compiuti finora sono comunque nella fase delle indagini preliminari. Lunedì 28 ottobre dovrebbe svolgersi l'udienza di convalida dell'arresto dell'indagato. Sullo corpo della vittima è stata predisposta l'autopsia.